Signore e signori, buongiorno. Sono Francesco Caltagirone, sono italiano, 48 anni e sono presidente ed amministratore delegato di Cementi Holding. Cementi Holding produce cemento grigio e bianco, calcestruzzo e aggregati in 18 paesi nel mondo ed è leader mondiale col 25% nella produzione di cemento bianco, fattura 1,3 bilioni di euro ed ha 3.500 dipendenti. Sono anche membro del Consiglio di amministrazione di diverse società del gruppo Caltagirone e di Acea. Come sapete, quando Suez ha aumentato la sua partecipazione in Acea, il gruppo Caltagirone è divenuto il terzo azionista di Suez e i due gruppi hanno iniziato una partnership strategica. È nel contesto di questo long-term agreement che sono stato cooptato nel Consiglio di amministrazione di Suez. Sono molto felice di partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione e del suo comitato strategico. Infatti, le attività del gruppo, nel cuore delle problematiche dello sviluppo sostenibile, stanno affrontando una profonda trasformazione e delle sfide molto interessanti. In questo momento importante per il gruppo, sono onorato di mettere a disposizione le mie conoscenze nel campo dei servizi all'ambiente che ho ottenuto tramite Acea e nel campo dell'industria, al fine di sostenere il gruppo nella sua strategia di trasformazione, nella prospettiva di una partecipazione di lungo periodo del gruppo Caltagirone. Grazie.